Oggi è una giornata importante al di là della presentazione perché abbiamo potuto annunciare che abbiamo un nuovo main sponsor che è la Sirio Toyota che ci permette poi di poter partecipare ai campionati. Tra l'altro abbiamo ribadito oggi che noi partiremo con un progetto con le scuole senza far pagare nulla ai ragazzi di 10 anni in su, anzi invito chiunque che volesse prendere contatti per portare i propri figli a iniziare questa pratica, do contattare qualcuno della società. Il sindaco oggi ha preso l'impegno che praticamente sta per partire i lavori quindi io ne prendo atto. Obiettivo della stagione? Stagione noi al momento ci dobbiamo salvare perché noi dobbiamo crescere come società perché senza società i risultati sportivi non arrivano, vi posso garantire che non arrivano e quando arrivano di fatto poi il giorno dopo finiscono e quindi noi puntiamo più a dare forza alla società con l'aiuto appunto di questi sponsor che ci stanno dando una mano. Poi una volta arrivati a un certo livello societario possiamo pensare di guardare oltre ma adesso dobbiamo rimanere i piedi da terra e ripeto dare forza alla società. Si riparte anche con Daniela Pallaria in panchina che ormai di fatto è un'istituzione terramana. Per il momento sì perché non ha fatto male, ovviamente come ogni allenatore dipende dai risultati però l'anno scorso abbiamo raggiunto obiettivi importanti, siamo tornati a disputa la Coppa Italia, ci siamo salvati senza affanni quindi credo che sia giusto che venga riconfermato, poi quando farà male valuteremo.